Nome. Donato Bilancia. Soprannome. Il serial killer della Liguria. Numero vittime. 17. Modus operandi. Usa della pistola. Donato Bilancia nasce il 10 luglio 1951 in un piccolo centro vicino a Potenza e nel 1956 si trasferisce in Liguria con tutta la propria famiglia. La sua infanzia è imbarazzante e solitaria. Fino all'età di 10-12 anni soffre di enoresi notturna. La sua vita in famiglia è fatta di piccoli gesti e pochissime parole. Piano piano, nel corso degli anni, il giovane Donato coltiva rabbia e rancore nei confronti dei genitori e del fratello maggiore, ma non riesce ad esprimerli, li accumula dentro di sé fino a riempirsene. Sua madre lo sottomette spesso a esperienze di grande frustrazione e umiliazione sessuale. In particolare Bilancia dichiara più volte ai psichiatri di non riuscire a dimenticare l'imbarazzo, la sofferenza e la rabbia provate quella volta in cui, quasi adolescente, la madre lo denudò di fronte alle cuginette più grandi, per mostrare loro com'è un pene. Durante gli anni della scuola Bilancia si sfoga commettendo furti e scassi. L'orrendo passato di Donato Bilancia riserva altre sorprese. Nel 1972 cade da un viadotto a bordo di un camion. Sopravvive ma il prezzo da pagare sono delle gravi ferite multiple e un coma di 10 giorni. Nel 1982 il fratello maggiore si lancia sotto un treno per suicidarsi. Non è solo, in braccio tiene il figlio neonato. Nel 1990 a bordo di un'auto, non guidata da lui, si schianta contro un palo della luce. Ancora coma, questa volta di 5 giorni. Siamo nel 1997, le prime vittime sono personaggi e amici conosciuti nelle bische. Genova, 16 ottobre 1997. Giorgio Gentanaro, imprenditore legato al mondo delle bische clandestine, viene trovato morto soffocato nella sua casa. Inizialmente si pensa a un infarto, ma è stato soffocato nel sonno da Bilancia, con un cuscino. Genova 24 ottobre 1997. Maurizio Parenti viene ritrovato morto insieme alla propria moglie. I due erano appena tornati dalla luna di miele. I due coniugi sono stati prima denudati, legati e imbavagliati con del nastro adesivo. In seguito il killer li ha fatti sdraiare sul letto e, salito sopra anche lui, ha ucciso Maurizio con un colpo alla tempia e la moglie con due colpi al petto. La camera viene svaliggiata. Genova, 27 ottobre 1997. Donato Bilancia uccide Bruno Solari e Maria Luigia Pitto, refici in pensione. Si salva la loro domestica rifugiatasi in terrazzo. Il killer penetra nella casa spacciandosi per postino. Ventimiglia, 13 novembre 1997. I debiti sono sempre più alti, l'assassino è capace di perdere 70 milioni di lire in una serata, così nelle sue mire cade anche Marro, un cambiavalute. Marro lascia sempre la porta aperta quando butta la spazzatura. Approfittando di questa leggerezza la notte del 13 novembre Bilancia entra nell'ufficio, costringe Marro a svuotare la cassaforte e poi gli scarica contro tutto il caricatore alla testa. Genova, 25 gennaio 1998. L'assassino seriale osserva per ben due sere il comportamento dei vari metronotte in cerca della vittima perfetta. Gian Giorgio Canu per lustra da solo via Armellini, entrando nei vari portoni a rotazione. Donato Bilancia studia bene il quartiere e sceglie di aggredire il metronotte nel secondo portone. Il 25 gennaio, Canu viene trovato morto. Ventimiglia, 20 marzo 1998. Ancora un cambiavalute, Enzo Gorni. In preda alla rabbia Bilancia gli scarica addosso tutto il proprio caricatore. Novi Ligure, 24 marzo 1998. Bilancia è in macchina con un viadoma viene colto in fragrante da due metronotte. Uno dei due uomini gli ordina di scendere dall'auto mentre l'altro si reca a chiamare la centrale. La paura dell'arresto fa scattare il meccanismo omicida di Bilancia, l'assassino scende dalla macchina e uccide con un solo colpo il metronotte in piedi davanti a lui. Altri due colpi vengono sparati contro il metronotte che stava per chiamare la centrale dall'auto. Il transessuale approfitta della confusione per scappare velocemente tra due cespugli. Per il serial killer si rivelerà il transessuale più agguerrito del mondo. Bilancia spara due colpi ai cespugli ma manca il bersaglio. Quindi altri tre colpi cercando di seguire i rumori delle fronde, come fanno i cacciatori. Ma il viado viene mancato nuovamente. Ha reso Bilancia torno ai due metronotte e li finisce con un colpo a testa, quando il viado gli salta addosso. La colluttazione è tremenda, Bilancia ha finito le pallottole. Per liberarsi del transessuale è costretto a colpirlo più volte con il calcio della pistola fino a farlo svenire. Poi fugge. Arma di Taggia, 21 aprile 1998. L'ultimo omicidio di un mostro ormai identificato e braccato. Donato Bilancia decide di rapinare un distributore sull'autostrada. Con la scusa di un chilo d'olio, Bilancia fa entrare il benzinaio Giuseppe Mileto nel gabbiotto dove gli estorce tutto l'incasso della giornata poi gli scarica tutto il caricatore addosso. Il gusto di uccidere ha ben presto preso il sopravvento sul bisogno di soldi. Tra le vittime di Bilancia troviamo così ben quattro prostitute, uccise tutte nel giro di appena un mese. 9 marzo 1998. Stella Truia di 25 anni, prostituta albanese, è la prima prostituta a cadere vittima della follia del killer. Bilancia la porta su una scogliera, e la costringe con delle minacce ad ammirare il mare, tutt'a noda. Mentre la ragazza esegue lui, alle sue spalle, le avvolge la testa in un asciugamano e fa fuoco. 18 marzo 1998. Lui Dmyla Zuskova di 23 anni, prostituta ucraina. Dopo un rapporto orale con la promessa del pagamento di un milione, Bilancia ha fatto retromarcia fingendo di sbattere contro un albero. Quando la ragazza è scesa e gli ha voltato le spalle, viene freddata sempre con dei colpi alla nuca. 29 marzo 1998. È il turno di Evelyn Tessiezoe di 27 anni, prostituta nigeriana. Bilancia accosta vicino a un muro, per impedire che la ragazza possa uscire dalla sua Mercedes nera. Ma Evelyn reagisce, prova a fuggire dal lato del guidatore, lotta contro il suo assassino riuscendo a morderlo alla mascella. Donato si rivela ovviamente più forte di lei e le scarica tre volte la pistola sulla nuca. 14 aprile 1998. Ancora una prostituta, l'ultima, Cristina Cavallamema, macedone di età non conosciuta. Viene uccisa finito il rapporto sessuale. I delitti più malati e inspiegabili di Donato Bilancia, ovvero quelli che lo hanno reso famoso e che hanno richiamato maggiormente l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica. Due ragazze sconosciute, viste per caso in treno. Venezia, 12 aprile 1998. Elisabetta Zappetti ha 32 anni e fa l'infermiera. Donato Bilancia la pedina sul treno e attende che la ragazza vada in bagno. Il serial killer scassina la porta. Elisabetta in seguito alla sgradita intrusione si mette a urlare, ma non fa in tempo a fare altro. Bilancia, con una rapidità invidiabile, le copre la testa con la giacca e spara. 18 aprile 1998. Maria Angela Rubino ha 29 anni e fa la cameriera, la sua unica colpa è l'aver utilizzato il bagno del vagone in cui è seduto Donato Bilancia. L'uomo aspetta qualche secondo, poi estrae la solita chiavetta quadrata e scassina il bagno. La ragazza, sotto la minaccia della pistola, è obbligata a inginocchiarsi dando la schiena all'assassino. Bilancia prende la giacca che la ragazza aveva appoggiato al lavandino, le copre la testa e spara per l'ennesima volta. Poi si masturba sul cadavere della ragazza e questo risulterà un grande errore. Ora i carabinieri hanno il suo DNA pedinato da due poliziotti in borghese in un bar, Donato Bilancia gusta un caffè accompagnandolo a due sigarette, quindi esce dal locale tranquillamente. I due poliziotti non lo seguono. Rimangono nel bar e raccolgono le due sigarette. Successivamente da esse verrà estratto il DNA che coinciderà con quello già in possesso degli investigatori. È fatta, l'assassino ha finalmente un nome e un cognome. Il 6 maggio 1998, alle 13, due carabinieri avvicinano Donato Bilancia e lo arrestano. Nella sua macchina vengono rinvenuti proiettili e quella pistola calibro 38 che tanto ha sparato e ucciso. Pochi giorni dopo arriva la confessione di tutti gli omicidi. Bilancia è inarrestabile e con una freddezza glaciale tira fuori la lista delle vittime. Il 14 febbraio 2001 la Corte d'Assise d'Appello lo condanna a 13 ergastoli e 28 anni di reclusione. Punto a riguardo il serial killer dirà. Uscivo di casa e decidevo di ammazzare, così come avrei potuto decidere di andare al ristorante. Io mi agito per una marachella e poi ammazzo come niente fosse.